Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft Dobbiamo creare della roba Draw my thing Siamo su una nuova versione Ecco fatto Che bello Eh? Eh che bello Ce l'abbiamo fatta L'hanno indovinata tutti Era una stellina Eh che bravo Sì Era una stellina Sono bravo davvero Eh grazie È la prima volta che ci giochiamo Perché è stato il primo della partita Eh ma buttato subito qui dentro Qualcuno l'ha azzeccato È una stella È una stella Stella Stellina Te la faccio gialla Te la faccio gialla No ma si capiva Come si va a fare gialla Fala gialla Gialla Ecco ecco fatto Facciamo Come si va a fare giallo Gialla Così La Gialla Ti piace più gialla Eh ma è una stellina Eva È una stella Eva Che bello Miau Eccoci benvenuti Scusate per l'inizio tragico Ma è iniziato subito su Draw it Una nuova modalità di gioco Che si basa su Draw my thing Pictionary Di Hive Quindi il server Adesso ha fatto anche la sua versione Di questo gioco E Siamo pronti A provarla Insieme a voi La mia prima cosa Mi fa già essere il primo Ezz No Eh pizza Ehm Salame Salame È salame No cos'è Ah così Ladybug Sì Ladybug Sì Bu 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 Budi È un budino È un budino Avete dovinato È la coccinella Ah che disastro Allora spiegami come si disegna Allora devi cliccare col destro Hai 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 quello piccino Cioè una cosa per fare le cose sottili Con la spada di legno E poi Tocca a te E poi è quella grossa Grossa Cos'è la parola Ah Eh una parola non posso leggere Va bene Dai vai Fammela facile Ma devo volare Come si fa Non puoi volare Disegnare da lì E puoi cambiare colore Cliccando col sinistro Ehm Broccoli No quasi Penso Ah Così No Cosa stai disegnando Ah 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 Sì Sì Otto Punti Ce l'ho fatta È un elefante Esatto Eh l'avevo zecato L'avevo zecato Ci voleva fantasia Eh però si può capire Potrebbe sembrare un topo Con la proboscite Perché alla fine si sa Che tra topi e elefante Scorre buon sangue Però è carino No 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 dai Ora ci sono anche le paroline sotto No dai sono stato bravo Sono stato bravino Eh E non ho guardato No è bello Mi piace come l'hai fatto l'elefante Mi piace No no è carino Mi piace Benissimo Tre lettere Tre lettere Eh Ho indovinato Ho indovinato Ma cosa Ma che Hai indovinato anche tu Sì Cos'era Eh Oink Eh Pig Non ci fosse Come ti è venuto in mente Di mettere maiale Ma come qualcuno l'ha scritto Ah come qualcuno l'ha scritto Qualcuno l'ha scritto Non l'ha scritto nessuno Sì l'ha scritto sopra Cove Sopra 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 Qualcuno l'ha pensato Ah ma l'aveva pensato prima Ma non sembrava il maiale L'aveva pensato per il tuo Non ci credo No Era il maiale Prima ho detto Cos'è Anche Kou Ecco Se ho usato a mucca Non l'aveva zeccato Che mi è venuto in mente Insomma tutto pig Cioè So bravissimo A sto gioco Eh questo è un maiale Nero Giusto Meno male che l'ha cambiato Da lei è così ordo il mio elefante Ah come ho fatto Sì effettivamente Come ho fatto Dal disegno non l'avei capito Ok quante lettre sono questa volta Ok stavolta è sicuramente il cavallo No vabbè Ora Broccoli Perché non è mai broccoli È pizza Trovi È cookie No cookie non è 5 È Excel Disegna È paper È paper Ma che Xevil Cos'è adesso Ho paura Non ci sta D'accordo Non è te È Un Harry Potter No No Gabinetto No È un vaso di fiori Eh ma non ci sta Poi sono anche io a pot Ma Non è che mi fa pot Ripetere se Come non mi fa scrivere messaggi Uno l'ha zeccato È malefico Uno l'ha zeccato Eh questo non mi viene È una penna La pentola Aspetta È fair Free Free Fried French fries Cos'è Free Fries Sono le patatine fried Eh vabbè ma non ce l'ho fatta Eh no No effettivamente Mi sono venuto in mente Niente vabbè questo non l'ho azzeccato Sei terza Bravissima Comunque non dirlo Non dirlo finché non l'azzecco Se no Non posso Eh come si cambia colore Eh with broccoli Dai Allora Eh cos'è Broccoli Eh squared Squared Broccoli Cos'è Ma perché mi dice che sto ripetendo Cos'è Eh un Quante lettere è No è M È un M Una birch Ma che birch Ma che creep Cos'è C'è una M Do Mi Fa Sol La si Cos'è È uno sgorbio B È sgorbio Sgombio No l'hanno azzeccata Cos'è Ah 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 Cos'è Un zombie Eh Lo zombie Ma poteva disegnare un po' prima gli occhi invece del corpo Come mi è venuto in mente di disegnare prima il corpo e poi gli occhi Come fai ad essere il primo bifido Ma mi stanno recuperando perché non riuscivo ad azzeccare Stato tutto grazie a Pig Perché è stato un successore A Bigre Sì Bigre Sì Bigre Eh Quasi Quasi Bigre Eh Bigre Inizia come la stessa lettera di Procro Quindi ci siamo Se vi salva questi Procro Ora te li faccio trovare in testa No 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 Allora Te li coltivo negli occhi Quante lettere sono? Eh Cinque Quindi è Paper No Eh Ah lo so Non lo sta scrivendo Eh lo so Broccoli Eh Brown Colore No l'hai indovinata Ah No No Bro 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 Ah L'hai indovinata Eh vabbè ho capito Cos'è Bro Ma mi stanno recuperando Cos'è Non posso dirtelo Cos'è con la cosa Poteva disegnarla In realtà ci si arrivava a disegnarla Cos'è Brodo È Brodo No c'è scritto Ma non è vero Guarda sta anche disegnando una pipa con una ciabatta attaccata e un bastone per Zanna È la scopa Ma dove? Eh invece Boom Eh lo so Eh lo so Ha vinto Ma è vero? È finita Mamma mia ce l'ho fatta Ma sono una vinto Uhuh Prima partita in assoluto Eh Ma che bravo Eh ormai sono diventato re del live Gioco dell'hub Vinco tutto Gioco a questo a caso Prima partita in assoluto la vinco Turulli Tutto questo per ottenere uno schifo di cristallo che vi darà degli schifo di Tokyo Ma è vero stokinizzarlo Che bello Quindi in poche parole c'era poco da dire su questo gioco perché comunque se avete già visto Draw My Thing lo conoscete già In ogni caso vi rimandiamo se volete vedere anche le nostre partite a Draw My Thing che sono ovviamente delle follie atroci Naturalmente i broccoli sono sempre Oggi presente Broccoli e sbroccoli Da 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 37 token schifosi Potrebbero anche limitarle queste cose Potrebbero anche evitare Tanto non so neanche cosa me ne faccio di sti token Li posso mettere nei broccoli dell'insalata Nella minestra Sì ma sai che minestra ci faccio? Non la finisco neanche Nella minestra di token Benissimo Questa è la Draw It su serve IMMC Speriamo vi sia piaciuto Non vediamo l'ora di fare altre fesserie E io ormai devo vincere sempre Perché no vabbè Comunque è andata bene Sono contento Sono stato fortunato E' stato anche grazie a Pig Che mi hai venuto in mente al volo Sei la mucca Non l'avevi vinto Vabbè E' stata anche un po' di fortuna Grazie a tutti Per essere stati con noi In questa puntata E Alla prossima Con Niente Love Ciao 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 Ciao